Brutto incidente, nel pomeriggio di domenica 21 aprile poco prima delle 17 in via generale della chiesa, coinvolto una Fiat Punto e una moto Yamaha con a bordo due persone, sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, l'elicottero dei vigili del fuoco Drago, le di soccorso del 118 e i carabinieri. L'impatto è stato alquanto violento, il centauro e il passeggero sono stati sbalzati dalla moto mentre la vettura si è ribaltata, inutili tentativi di salvare il centauro a un 49enne di Nole, trasportati in ospedale in serie condizioni le altre due persone coinvolte nell'incidente, purtroppo il conducente della vettura è deceduto poco dopo, la dinamica è il valio delle forze dell'ordine. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!